Diffamazione online, cyberbullismo, sextortion e diffusione di materiale pedopornografico. Questi i principali reati che interessano il mondo del web e i minori, delitti che vengono perseguiti dalla polizia postale ma i cui numeri continuano a crescere. Ed è in occasione della giornata mondiale sulla sicurezza in rete che tornano le iniziative organizzate dalla polizia postale in collaborazione con il ministero dell'istruzione, rivolte ovviamente ai più giovani. Con un'edizione speciale del progetto Una vita da social, la polposta incontrerà così in tutta Italia gli studenti per parlare di cyberbullismo. Nella settimana del Safer Internet Day, nell'Aretino, l'incontro di formazione è fissato per sabato 15 febbraio presso la Casa Famiglia per minori Alberigo e Maria di Montagnano, un tema dunque di stretta attualità sul quale oggi più che mai è necessario fare formazione, informazione e confronto. Nel 2019, infatti, i reati informatici hanno visto un incremento sia per numero di minorenni denunciati che per denunce presentate. In Toscana, nel corso del 2019, sono stati denunciati 136 minorenni, 5 per stalking, 28 per diffamazione online, 11 per minacce, 15 per furto d'identità, 62 per materiale pedopornografico online e 15 per sextortion. Nel 2018, i minori denunciati erano stati invece 60, 53 nel 2017. In crescita anche i numeri delle vittime, 460 nel 2019. Le denunce presentate presso gli uffici di polizia, nel 2018, erano state 388, 558 invece quelle nel 2017. Numeri in crescita di quasi il 50% anche ad Arezzo. In tutto sono stati 5 i minori denunciati nel 2019, 4 di questi per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, un dato dunque quasi raddoppiato rispetto al 2018.